Ciao a tutte e a tutte, io sono Carme, io sono Angela e insieme siamo le Martinos. Il video di oggi sarà un video differente. Voglio fare una premessa, non è un video contro una persona, contro delle persone, ma è un video in merito a degli atteggiamenti che ci hanno stufato. Sono atteggiamenti reiterati nel tempo questi. E che tipo di atteggiamenti sono? Sono quella che probabilmente potrebbe essere definita una appropriazione in debita di idee? Non citarle fonti? Sì. Voglio escludere a priori da questa categoria, quelle volte YouTube è un oceano, e quindi capita a volte che in quest'oceano ci siano pesci che abbiano idee similari e quindi a distanza di un po', non tantissimo generalmente, si scoprano o si portino dei format similari, senza però che uno sappia dell'esistenza dell'altro. Questo capita, probabilmente potrebbe essere capitato già anche a noi, o potrebbe capitare anche a noi. Questa sfera di creatori che portano idee similari a distanza in genere è breve anche, vorrei escluderli per il semplice motivo che non sono atteggiamenti reiterati. No, questi atteggiamenti sono atteggiamenti che abbiamo notato protrarsi nel tempo. non una, non due, non tre, non quattro, non cinque. Diciamo che superate le cinque volte, noi siamo persone pazienti, però dopo la quinta, quella che poteva essere di prima chito una grossa delusione, è diventata basta mi sono stufata. Neanche rabbia non è rabbia, la rabbia è ben altro per noi. Questo è proprio arrivato il punto in cui noi vi mostriamo un'altra parte di noi, che è quella dove non riusciamo più a stare zitte. Di solito, avendo tanta pazienza, la pazienza è un pregio, e quindi fa sì che uno passi oltre, passe oltre, va avanti, butta le spalle, finché non si arriva a non voler più buttare nulla alle spalle. Quando ne arriviamo a non buttare più nulla alle spalle, apriamo la bocca, pensandoci anche, non è che è una cosa accampata all'aria per noi, cioè, nel senso, e questo lo facciamo adesso, ma lo facciamo anche nella vita. Quando arriviamo a un punto di stop, noi diciamo la nostra. Fortunatamente viviamo in un paese libero, e come tale possiamo dire qual è la nostra opinione, posizione, insomma. Prendiamo anche una posizione, perché oggi stiamo prendendo una posizione. Esatto. Vogliamo ringraziare, anzitutto, Elisabetta R, dell'Umonimo Canale, Elisabetta, perché ci ha veramente supportato. Grazie, grande, 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 perché se ti stimavamo, adesso ti stimiamo dieci volte di più. Assolutamente. In un precedente video vi abbiamo sempre detto che noi siamo persone abbastanza dirette, e pane e pane in al vino, campagnole, chiamateci come un po'. Rusti che ci definiamo. Rusti che ci definiamo noi. Un po', sì. E ci piace parlare onestamente. E questo è proprio un parlare onestamente. Sono capitati svariati episodi, nei quali persone, in un caso, le seguivamo anche. Sì. Generalmente, no. Però, comunque, vero male, i video compaiono tra i consigliati, quindi qualcosa lo guardi sempre. Non c'era finità, avevamo deciso di non seguirle altre. Comunque, hanno portato e si sono appropiate le idee non loro, portandole sul canale, spacciandole per farire il loro sacco. Eh no, e basta. Sì. Stop. Non è capitato solo a noi, è capitato anche a altre ragazze. Sì, assolutamente. Ne avevamo già parlato sul gruppo Telegram, beninteso. Il nostro pensiero da quello che abbiamo scritto su Telegram non cambia. Perché nel momento in cui noi su Telegram abbiamo detto che andremo, si va avanti e significa che la direzione che si sta intraprendendo è una direzione, le idee sono quelle giuste, probabilmente, anzi, continuiamo a sostenere quest'idea. Sì, sì, noi andremo avanti, non è che questa cosa ci blocca. A noi lo facciamo per passione, quando c'è davanti la passione, almeno a noi non ci ferma niente, cioè questo non ci blocca, solo che secondo noi è rilevato il momento di dire la nostra, molto semplicemente e serenamente in tutto ciò. perché quando vedi, appunto, certi canali che si appropriano indebitamente di idee, non una, non due, non tre, tra l'altro a volte non escono dopo pochi mesi, escono dopo quasi un anno. Allora, dici, se esce dopo un anno, qualcosa devi averla vista, tra l'altro dando indicazioni abbastanza specifiche. Sì, che solo ed esclusivamente se si è visto alcuni video, in questo caso parliamo dei nostri, e quindi se si è visto un nostro video si possono sapere. Ma non solo! Nel momento in cui vengono sgamate, cercano di arrampicarsi un po' sugli specchi, trovando delle scusanti e ammettendo, sì, di averlo visto anche su altri canali di ragazze che però non hanno citato. Quindi non è solo noi, cioè questa cosa l'abbiamo notata anche per altri canali, solo che a noi dà fastidio a prescindere. Per quello vi abbiamo detto, non è una battaglia contro le persone, è una battaglia contro l'atteggiamento. Contro l'atteggiamento. E purtroppo questo atteggiamento che abbiamo notato qua su YouTube, anche se noi non siamo da tantissimo tempo sulla rete, sul canale, è un atteggiamento che poi si nota nella vita quotidiana di tutti i giorni, non è che è nulla di differente. Si, si riscontra quotidianamente anche questa cosa. YouTube potrebbe essere un ottimo strumento di studio sociale a nostro abiso. E quindi, sì, era quello che ci tenevamo a dire. Inutile, oltre diventa polemica che non è il nostro... Non è il nostro stile. Non è il nostro stile. Ci sono tante... Quello è il consiglio anche che vorremmo dare, che ci sono tante ragazze che passano per polemiche. Sì. Che in realtà sono solo molto dirette. Sì, dicono quello che pensano. E sono anche molto più competenti di determinate persone, di alcune di queste persone che si appropriano delle idee facendole passare per loro. E queste altre persone sono anche persone molto competenti. Banalmente potete andare a scorrere le nostre iscrizioni, perché noi comunque con molti di questi ragazzi ci sentiamo anche, ci piacciono tantissimo. Citiamone una su tutte. Una Makeup Artist. Scarlett Diva Makeup. Juicy. Il canale si chiama così. Lei è competentissima. Quindi, tra l'altro, cosa che a me fa personalmente sorridere, e qua, cioè, proprio mi fa ridere, proprio mi fa ridere, inutile, è che noi siamo riusciti a prendere un range altissimo, quasi tutti, perché c'è dal piccolo creatore al grande creatore, dal creatore che c'è da poco tempo al creatore che c'è da tanto tempo, a ogni fascia d'età. Cioè, è fantastica. Con tutto il medio e il mezzo. Cioè, con tutta la fascia media, meno male, copriamo. Cioè, sono minimo, massimo, praticamente. Sì, esatto. C'è tutto il range. E' fantastica questa cosa. Siamo riusciti ad unire in questo. Sì, siamo riusciti. È fantastico. Quindi, questo era proprio per dirvi che basta, basta. Bisogna imparare a citare. Non abbiate paura di dire ho preso ispirazione da, ho rivisitato un format D, ho scoperto questa cosa grazie a, non fa male. No, no. Non fa male. Tanto se un canale vuole essere seguito, viene seguito a prescindere da. Esatto. Cioè, se uno cita e poi l'altra persona che lo guarda va a vedere e non le piace, non lo segue. Cioè, appunto, è molto semplice la cosa. È più per, diciamo, un'onestà a livello etico e morale, soprattutto. Esatto. Quindi, non abbiate paura, anche chi si volesse affacciare a YouTube, o che qualcuno che ci segue, non abbiate paura a citare. Non fa male a voi, non fa male agli altri, non fa male a nessuno. Esatto. Bene. Per questo è tutto. Abbiamo finito con questo sfogo, con questa parte che volevamo portarvi, anche per chi si vuole approcciare di nuovo. Sappiate che si andrà sempre. Sappiamo, non siamo le uniche. Tutti quanti ci vanno incontro. È normale così. Nella vita normale capita. Sì, sì. E va bene così. Ripariamo anche. Però, volevamo essere anche dirette con voi. Volevamo essere... E in futuro, se dovesse ricapitare, e noi arriviamo al limite di nuovo di dire basta, ma noi torniamo anche a ridirlo, ma non abbiamo alcun tipo di problema. Esatto. Perché, come abbiamo detto, noi le posizioni le prendiamo. Le prendiamo e siamo persone sempre schiette. Quando ci stufiamo, lo diciamo. Esatto. E questo è stato il caso. Noi vi mandiamo un mega gigantissimo bacio, speriamo di rivedervi in un prossimo video. Ciao. 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 Ciao.